Il caro carburante picchia duro e sommato all'inflazione mette in ginocchio molti italiani. È da un mese che la benzina è tornata addirittura oltre i 2 euro al litro per il servito. E anche il diesel per il fai-da-te è arrivato a superare l'1,9 al litro. Secondo i dati disponibili dall'osservatorio prezzi del Mise, tra i self-service, ad esempio in Valdarno, si arriva a 1,989 per la benzina e a 1,939 per il diesel. I prezzi sono alti in tutta Italia e Arezzo ovviamente non fa differenza, anzi forse c'è qualche centesimo in più. Una situazione da tamponare che con il passare dei giorni si è aggravata. I prezzi dei carburanti stanno salendo da 16 giorni consecutivi, proprio in concomitanza con il periodo delle ferie di ferragosto. Intanto, proprio per l'alta volatilità dei prezzi dei carburanti, a ferragosto la Guardia di Finanza ha fatto sapere di aver intensificato i controlli a tutela dei cittadini. Dal 1 di agosto sono stati effettuati 1.230 interventi in tutta Italia e riscontrate 325 irregolarità. Le violazioni contestate sono state 789, di cui si legge nella nota delle fiamme gialle 363 per mancata esposizione dei prezzi oppure per difformità da quelli praticati rispetto a quelli indicati.